Quest'anno non ci sarà il gemellaggio con Salerno che l'anno scorso portò le luci d'artista nel centro storico di Napoli, ma i commercianti della zona non vogliono comunque rinunciare alle luminarie. Il comune ha promesso che entro fine novembre monterà le luci. Una scelta che soddisfa a metà i bottegai di San Gregorio Armeno per i quali il periodo natalizio comincia già il primo novembre, come spiega Gabriele Casillo dell'associazione Corpo di Napoli. Quest'anno il comune di Napoli tramite la camera di commercio probabilmente metteranno i luminari loro, quindi rispetto all'anno scorso che non c'erano i luminari nei decumani, avete anche ancora meno, quest'anno il comune ha deciso di metterle, però un po' tardi, nel senso che qua ci serve un Natale lungo, cioè Natale per noi inizia il primo novembre, quindi spero che almeno l'anno prossimo si ricordino che Natale qui inizia il primo novembre sarebbe opportuno iniziare a fare tutte queste cose dal primo novembre in poi, cioè quindi mettere sia le luminarie, sia organizzare gli eventi, cioè è opportuno iniziare, anzi è fondamentale iniziare il primo novembre, come avviene in tutte le città d'Italia, come avviene a Salerno, come avviene a Roma, a Firenze, se oggi andiamo a vedere le altre città d'Italia già sono tutte, quasi tutte addobbate a Natale, qui stiamo un po' in ritardo. I commercianti sono comunque ottimisti, ma nel caso il comune ritardasse l'installazione delle luminarie, hanno già pronta una protesta forte e simbolica, lasceranno totalmente al buio la via dei presepi. Se per il 29 non lo mettono, non mettono le luminarie, come ci hanno promesso, noi lo faremo, cioè non è, abbiamo minacciato, spegneremo le lice e facciamo anche altre forme di protesto, questo è poco ma sicuro, perché non è possibile.